L'amore L'affetto non si può pretendere, non dobbiamo chiedere nulla, dobbiamo volere che le cose ci vengano donate spontaneamente, perché in amore servono attenzioni, non favori. Amare significa regalare il cuore a qualcuno senza che nessuno ce l'abbia chiesto. Significa donare quello che non si ha, il tempo, i giorni e la vita, ma non è qualcosa che capita. Nell'amare bisogna impegnarsi e non dire mai non puoi, mi devi, ti obbligo e imparare a perdonarsi e perdonare, accettarsi e accettare e avere paura ma sentirsi invincibili al tempo stesso. E volersi condividere, volersi la sorpresa da vicino. E tutto questo mio discorso per cercare di descrivere qualcosa che già dalle prime parole avevi collegato ad un nome, ancora prima di finire di ascoltarmi. Ad alcune persone si dona una parte di noi, ma solo a chi amiamo, si dona tutto, cuore, mente e anima, sia amare e donare tutto, senza chiedere niente. Grazie a tutti.